La gente deve vivere, io ho fatto i sacrifici per pagare la casa che ancora sono dietro a pagarla e adesso mi trovo una rotatoria dentro casa mia. E' preoccupata questa signora che abita in via Bellandra a Sant'Orso di Fano. Il provvedimento di esproprio infatti è arrivato anche a lei tramite una lettera di società autostrade che entro il 2018 dovrà terminare i lavori per le opere accessorie alla terza corsia della 14. Questa nuova strada dunque passerà proprio qua. Qua, qui, qui, attaccata alla mia recinzione. Quindi lei insomma ha paura, nel senso si chiede come farà ad entrare? Io come devo fare ad entrare col garage per accedere alla casa con la macchina e in più tutto il rumore è sotto la finestra di casa. Inoltre il valore economico a lei glielo contano come terreno non edificabile, quindi agricolo. Il terreno dietro la casa, il terreno viene, noi lo paghiamo, è fabbricabile, le tasse, e ci viene valutato come agricolo, questa è una vergogna. E mentre ci mostra la lettera ci spiega che l'è stata spedita solo la settimana scorsa e che già fra pochi giorni arriveranno i tecnici. E poi la gente bisogna che viene anche avvertita, deve avere anche il modo di muoversi, non che ti arriva la lettera dal tribunale. Insomma, tutto come un fulmine a ciel sereno, in cui non ha nemmeno avuto il tempo di realizzare e capire che cosa cambierà con esattezza. Io spero che cambino percorso, visto che c'è tanto terreno di un grosso imprenditore fanese, di fare un rotatorio più lontano da casa, possibilmente. A chiedere l'eventuale possibilità di modificare il percorso stabilito sono anche i consiglieri del Movimento 5 Stelle di Fano che sulla vicenda hanno depositato un'interrogazione. In una nota, Omiccioli, Ruggeri e Ansuini sottolineano l'annullamento del valore degli immobili e che l'impatto che queste opere avranno sulle abitazioni e sulla vita delle famiglie non potranno essere indennizzati con nessuna quantità di denaro. Mi si svalta il valore della casa e mi tolgono il modo di vivere.